Salve a tutti, il mio nome è Riccardo Righi, sono un borsista di ricerca dell'Università di Modena e Reggio Emilia, in particolar modo lavoro presso il Dipartimento di Economia Marco Biaggi. Dopo cinque anni di studio al Dipartimento di Economia, dove ho conseguito l'aura triennale, laurea magistrale, ho poi conseguito il dottorato di ricerca all'Università di Bologna e in pratica sono qui per dirvi che ho registrato una serie di lezioni sull'utilizzo del software Stata. Le lezioni in totale sono 12, sono suddivise in quattro moduli, ognuno dei quali contiene tre appunto lezioni che in modo graduale affrontano diversi temi e diversi comandi legati all'utilizzo di Stata. da un'introduzione ai comandi per l'elaborazione del database fino alla produzione di elaborazioni e alla produzione di cicli e comunque utilizzo di comandi piuttosto avanzati. Con questo si conclude questa breve presentazione. Spero che il corso vi possa essere utile non solo all'interno del percorso di studi ma anche a seguire in ambito lavorativo. Un cordiale saluto a tutti e arrivederci. A presto.